Buon pomeriggio, siamo arrivati al giorno 15 del mese di marzo. Incominciamo la nostra settimana con la riflessione e la preghiera a San Giuseppe a cui potremmo dare come titolo Padre nell'ombra. Giuseppe nei confronti di Gesù è stato un po' come l'ombra del Padre Celeste. Lo custodisce, lo protegge, gli sta accanto, però non si sostituisce a lui. È come l'esperienza degli ebrei quando hanno attraversato il deserto. Dio era sempre con loro, era al loro fianco, li accompagnava, vegliava su di loro sia di giorno che di notte, ma non si è mai sostituito a loro. Ha permesso che loro facessero delle scelte che erano anche provocatorie nei confronti di Dio. Però li ha sempre accompagnati, è sempre stato loro accanto. Diciamo che la società attuale spesso ha questa carenza di padri. È come se la figura del Padre si stesse un po' sfaldando e c'è invece bisogno che venga recuperata questa presenza del Padre, perché è importante. Ma anche la Chiesa oggi ha bisogno di padri e di padri veri. La riflessione di oggi ci aiuta a entrare un po' nel significato dell'essere padri. L'essere padri significa aiutare i figli e introdurli all'esperienza, alla vita, alla realtà che devono vivere. Introdurli ma senza trattenerli, senza imprigionarli, senza appossederli. Significa rendere capace i figli di fare delle scelte, delle scelte di libertà, delle scelte che magari li portano anche ad allontanarsi da noi, delle scelte che li portano a fare anche a volte degli errori. La logica di amore di un padre, ma diciamo anche di una mamma, è la logica della libertà che contempla la possibilità per il figlio di sbagliare. Noi conosciamo benissimo la parabola di Gesù, quella che noi erroneamente abbiamo sempre chiamato come la parabola del figlio al prodigo, ma che meriterebbe invece come titolo la parabola del padre misericordioso. Allora, chiediamo oggi a San Giuseppe di vegliare sulle nostre comunità. Abbiamo parlato che anche la Chiesa ha bisogno di padri, di padri veri. Ecco, chiediamogli di vegliare sulle nostre comunità parrocchiali, sulla nostra comunità pastorale, sulla diaconia che proprio questa sera si ritroverà per prendere alcune decisioni e definire un po' il programma di quello che saranno le prossime festività pasquali. Chiediamo a San Giuseppe di aiutare i nostri sacerdoti ad essere capaci di essere dei padri e non magari dei padroni, forse è una parola un po' forte, ma non di essere quelli che sanno organizzare tutto, che organizzano tutto loro, che dettano le regole, che siano capaci di non confondere l'autorità con l'autoritarismo. Che sappiano confrontarsi fra di loro e con i fedeli e che sappiano vivere quella sinodalità di cui tanto si parla, ma che a fatica riesce a mettersi in pratica. Ma non chiediamo questo sforzo solo ai sacerdoti, chiediamo lo sforzo anche a noi laici che facciamo parte della diaconia, perché impariamo a vivere quell'unità nella pluriformità, parole difficili, che tanto ci richiamano i nostri Vescovi, ma che dette in parole più semplici significa trovare quella strada comune che ci porta a fare un'esperienza di Chiesa vera, di Chiesa condivisa, di Chiesa missionaria, nel rispetto di quelle che sono le particolarità, le tradizioni, le peculiarità delle varie parrocchie e dei vari parrocchiani. E chiediamo anche che ci aiuti a vivere come diaconia, ma anche come comunità cristiane, quella corresponsabilità tra laici e i ministri ordinati, in virtù di quel comune sacerdozio che abbiamo ricevuto tutti nel giorno del nostro battesimo. Ecco, imploriamo allora San Giuseppe perché ci aiuti a vivere così, perché la nostra comunità pastorale possa continuare a camminare e ad essere un luogo di crescita, di trasmissione vera della fede, di attenzione alle persone, di attenzione alle povertà, perché l'annuncio del Vangelo sia davvero missionario e possa raggiungere il maggior numero di persone. Preghiamo poi, invocheremo anche l'aiuto della Madonna. La nostra comunità pastorale è intitolata la Madonna del Carmine, quindi anche lei vegli sulla nostra comunità pastorale e ci aiuti a vivere questa realtà davvero con uno spirito di comunione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Buon pomeriggio e buona serata a tutti.